Ciao, sono Alessandro Lu e sono il direttore artistico della scuola di recitazione musical Vaudville La Vaudville è principalmente una scuola di recitazione musical che prepara i ragazzi sulle tre discipline fondamentali del musical recitazione, canto e danza ma anche in tutte le discipline accessorie è nata nel 2007 perché era stato richiesto un musical dall'associazione Scursus di Messina ma purtroppo all'epoca non vi erano ragazzi preparati su tutte e tre le discipline c'erano attori, c'erano ballerini, c'erano cantanti ma non c'era nessuno che facesse tutte le cose e così abbiamo creato dei corsi che sono nati come un laboratorio e si sono evoluti nella scuola che oggi conosciamo La filosofia distintiva principale di Vaudville è l'inclusione perché il teatro non è solo per chi vuole fare questo di mestiere sicuramente è per loro ma è anche per portare tutti i ragazzi a una crescita e quando dico ragazzi però non intendo soltanto gli adolescenti ma abbiamo ragazzi di 4 anni, abbiamo ragazzi adolescenti ma abbiamo anche ragazzi over 60 che continuano a vivere il teatro e ad amarlo perché fondamentalmente il teatro è passione e emozione ed è per questo che noi abbiamo puntato tutto sul musical perché è la forma per eccellenza di teatro totale un teatro che avvolge il pubblico e lo emoziona I nostri corsi sono rivolti sia a chi vuole ampliare le proprie capacità nel campo del teatro e del musical sia a chi invece vuole farne una vera e propria professione e per questo abbiamo creato due iter diversi la formula LAB che è un po' più leggera ed è basata solo su recitazione, danza e canto per sei ore settimanali è il corso regular invece che prevede 10 ore settimanali più di 12 materie ed è più specifico proprio per chi punta all'accesso in un'accademia a queste materie fondamentali nel corso regular si aggiungono materie più specifiche come quelle teoriche dalla storia del teatro, la storia del musical al diritto dello spettacolo ma anche quelle pratiche come scherma teatrale e acrobatica ogni mese viene un professionista del panorama nazionale teatrale che approfondisce con una masterclass o aggiunge materie nuove al bagaglio di questi nuovi talenti noi non facciamo alcuna selezione perché chiunque deve provare questa esperienza chiunque deve fare teatro perché è una crescita è una crescita importante ed è per questo che noi mettiamo la nostra scuola a disposizione di tutti H24 praticamente anche quando non hanno lezione i nostri allievi vengono qui fanno prove studiano per la Vauxville ma studiano anche per la scuola per l'università provano delle esibizioni singole provano dei pezzi per un provino sono sempre qui perché apertura vuol dire anche essere sempre a disposizione per una crescita dell'allievo I am love in a rainbow in a rainbow in a rainbow in a sky I am love I am love I am love I am love Oggi Vauxville è una delle realtà più grandi e più complete in città al momento abbiamo circa 150 allievi e siamo ancora in continua crescita noi puntiamo a diventare un'accademia un domani perché pensiamo che dobbiamo migliorare migliorare noi stessi per migliorare la preparazione che offriamo a questi ragazzi per andare in scena andiamo a Понятно a MICI a a a a a a